carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del nostro ciclo di catechesi dedicata all'antico testamento e stiamo nella sezione dedicata ai cosiddetti libri storici che abbiamo già cominciato a vedere la volta scorsa abbiamo seguito l'origine e i primi passi del ministero particolare di samuele il primo grande personaggio diciamo così inquadrabile nella tradizione profetica anche se come abbiamo visto non rientra diciamo così tra i profeti canonici dato che il primo di esso è stato isaia non ci rientra neanche elia perché elia non è uno dei né uno dei quattro profeti maggiore né uno dei dodici profeti minori però il signore stesso lo definisce il primo e il più grande profeta no abbiamo accennato che la storia del profetismo in israele nasce così in questo modo un pochino carismatico perché si tratta di appunto personaggi carismatici suscitati direttamente dal signore con un fine ed una missione ben precisa vedremo oggi che samuele ha ricevete da dio anche il compito molto importante di ungere i re di israele a partire appunto da saul e e poi con il profeta scusate con 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 il grande re davide vi mostro come sempre adesso mandiamo un il video diciamo a due a due schermate in modo tale che possiamo seguire i passaggi io la storia di questa sera dobbiamo vedere la storia di saulo spero di riuscire a esaurirla anche se in questi libri cerco di tagliare un pochino le presentazioni dei testi i testi essenzialmente libri storici ma anche un pochino lo stile ebraico è un po è un po ridondante quindi i racconti sono abbastanza lunghi e cercheremo di cogliere appunto gli aspetti essenziali tenendo sempre presente che qui si tratta di si tratta di cogliere un messaggio attualizzato e spirituale anche per noi cioè la lettura della bibbia non è mai una cosa fatta così tanto per cultura personale ma si tratta di esserne edificati e di trarne insegnamenti la storia di saulo è una storia drammatica purtroppo che ci dà indirettamente degli insegnamenti molto molto forti molto molto seri molto impegnativi come vedremo dal testo e che evidentemente si stagliano come moniti ecco quindi saulo ci insegna tutto quello che non dobbiamo fare ecco per per essere e rimanere graditi al signore soprattutto per non perdere e spregare le grazie che ci ha fatto il signore le fa oggi come le fece allora allora mandola l'inquadratura a doppia a doppia slides così vediamo prima le slides di presentazione del tema e poi vi faccio vedere come sempre il testo biblico incolonnato nelle sei lingue antiche in modo tale che possiamo cominciare la presentazione ovviamente i collaboratori mi informino sempre se c'è qualcosa che non va sia a livello di visualizzazione che di audio in modo tale che possiamo garantire un qualche cosa di buono allora di saulo e di davide si parla nel primo nel secondo libro di samuele la storia di saul abbraccia vedete praticamente quasi quasi tutto il libro del profeta di samuele tranne i primi capitoli che abbiamo visto la volta scorsa sono appunto dedicati alla presentazione alla storia di samuele stesso e allora che cosa vedremo noi quali tratti salienti vedremo noi allora dall'elezione di saul alla sua riprovazione un cammino intenso e rapido e che passa appunto per tappe veramente tristi allora l'incontro con samuele e la consagrazione sono due lunghi capitoli attraversate poi da questa vicenda pittoresca singolare delle asine di saul probabilmente le incroceremo durante la la lettura poi la prima brutta disobbedienza di saul che fa una alzata di scudi fa una sciocchezza diciamo così di di testa propria e che avrebbe pagato molto molto cara e poi la seconda la più grave è quella che gli costa la riprovazione formulata espressamente da dio e poi comunicata gli attraverso samuele successivamente alla riprovazione di saul come sempre fa a seguito la lezione di davide questo ci insegnerà una triste e dolorosa verità che è questa che quando il signore fa quando uno spreca una grazia grossa del signore nostro signore la prende e la dà qualcun altro che ne fa un uso migliore di quella dell'ingrato e dell'incauto sperperatore di grazie la storia diciamo la vicenda contemporanea di saul e di davide abbraccia la seconda parte del libro del profeta samuele cioè si va dall'elezione di davide il famoso episodio dell'incontro di samuele con gli esse che gli presentano tutti e sette figli e poi con questi sette figli non c'era steletto dice ma come mai sono finiti dice ma no veramente c'è un ragazzino uno che sta a pascolare quello è piccolo fermati fermati valla a chiamare perché io non me ne vado fino a quando tu non lo chiami e poi è lui il re no e sappiamo tutti i cuticanti sanno la storia che davide appena nominato ha subito un exploat perché abbatte colia e questo suscita l'ira e la gerosia di saulo che da quel momento comincia a perseguitarlo tutta una serie di vicende tristi addirittura massacri di sacerdoti di nob per odio a davide la magnanimità di davide nei confronti di saulo che nonostante avesse avuto la possibilità per due volte di ucciderlo lo risparmia ed infine saulo fa l'ultima la fa grossa quanto una casa va ad endor da una stregona da una maga a cercare dopo la morte di samuele di attraverso un atto di divinazione di evocare lo spirito di samuele perché non sapeva più che cosa fare e fa la brutta fine che fa ecco adesso andiamo a vedere gradualmente i passi biblici che ci mostrano questo percorso ahimè non proprio meraviglioso di dire saul cambio cambio slide e ci spostiamo appunto sulla zona della saga scrittura allora cominciamo come accennato dal dal capitolo nono leggo il testo della cefa faccio riferimento al al cea 2008 quando sarà necessario come sempre faremo qualche sortita qualche passaggio qualche considerazione guardando il testo ebraico in lingua originale c'era un uomo della tribù di beniamino chiamato 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 chiss figlio di abiel figlio di seror figlio di becorat figlio di afiac un beniaminita uomo di valore costui costui aveva un figlio chiamato saul prestante e bello di lui tra gli israeliti non c'era nessuno più bello superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo invito subito a come dire a cogliere questo particolare perché per esempio anche se dai vangeli non risulta risulta dagli scritti di di maria valtorta questa descrizione bello prestante corrisponde grosso modo sapete a chi nel nuovo testamento a giuda giuda era bellissimo era un bellissimo era un bellissimo uomo a quanto ci dice maria valtorta tra l'altro era un uomo molto colto molto istruito a differenza di molti altri benestante e tante altre cose quindi era come dire umanamente parlando un elemento di spicco vedete qui già si come dire si si intravede che Dio volge lo sguardo verso gli umidi e generalmente i grandi i dotti i sapienti gli intelligenti come abbiamo sentito nelle primissime battute di questo tempo di avvento non incontrano il suo favore ma perché perché queste caratteristiche queste buone qualità diciamo umane hanno quasi sempre l'effetto di rendere la persona un po' troppo sicura di sé poco umile dinanzi a Dio poco incline quindi all'obbedienza nei suoi confronti e quindi facilmente tendente ad uscire fuori dalla divina volontà dal seminato e quindi dalla grazia di Dio ecco detto proprio in termini espliciti ora c'è questa storia delle asine di Chis delle asine del padre di Saulo che si smarriscono e Chis disse al figlio Saulo prendi i conti uno dei domestici e parti subito in cerca delle asine quindi questi cominciano ad attraversare le montagne i territori eccetera eccetera quindi scorro un pochino i versetti senza leggere terra e tutto quanto a un certo punto arrivano lontani qualcuno suggerisce di tornare indietro ora però erano arrivati proprio nella città di Suf dove appunto abitava Samuele gli rispose ecco in questa città c'è un uomo di Dio ed è un uomo tenuto in alta considerazione tutto quello che dice sia vera ebbene andiamoci forse ci indicherà la via che dobbiamo battere questo suggerire un domestico a Saulo Saulo risponde va bene andiamo ma che porteremo a quell'uomo il pane delle nostre sport è finito non abbiamo alcun dono che cosa gli portiamo e questo gli suggerisce i doni da portare a a Samuele una volta in Israele quando uno andava a consultare Dio diceva su andiamo dal veggente perché quello che oggi si chiama profeta allora si chiamava veggente vedete l'origine carismatica di questo movimento diciamo così profetico e israelitico in cui peraltro si situa anche Samuele stesso dice disse dunque salvo al domestico hai detto bene su andiamo mentre essi salgono il pendio della città trovano delle ragazze a cui chiedono è qui il veggente quelle rispondono sì eccolo davanti a te ma fa presto ora è arrivato in città perché oggi il popolo c'è per un sacrificio sull'altura entrano in città salgono eccetera mentre si stavano per entrare in città ecco che Samuele stava scendendo in direzione opposta per salire all'altura il signore attenzione aveva rivelato all'orecchio di Samuele un giorno prima che giungesse Saul domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei perché io ho guardato il mio popolo essendo giunto fino a me il suo grido ho attenzione per noi che ormai abbiamo chi ha seguito le catechesi bibliche dell'antico testamento noterà una forte analogia tra queste parole che Dio appunto rivolge a Samuele e quelle che pronunziò allorché decise di intervenire per la liberazione di Israele dal popolo dalla terra d'Egitto ho ascoltato il grido ho visto ho deciso di scendere per andare in loro aiuto essendo giunto fino a me il mio grido no? Baza Koto Elai quindi il loro Zahak è grido Ba Bo significa arrivare Elai a me ho guardato bellissimo il mio popolo proprio il termine Ra proprio ho volto lo sguardo vedere no? il verbo Ra e quindi quando Samuele vide Saul il Signore gli confermò ecco l'uomo di cui ti ho parlato costui reggerà il mio popolo quindi vedete che c'è un'elezione divina su Saul abbiamo visto la volta scorsa che il fatto che Israele abbia avuto un re fu un atto di volontà umana degli israeliti sconsigliato da Samuele e ricordiamo che Dio disse lasciali perdere fai quello che ti dicono digli va bene perché facendo questo loro hanno ripudiato non te ma me ricordiamo la catechesi della volta scorsa però Saul viene scelto da Dio non è che si propone da solo o non è che lo sceglie autonomamente Samuele quando Samuele cioè Saul stava cercando le pecore le asine del padre non immaginava neanche lontanamente di incontrare Samuele e che Samuele poi gli avrebbe detto quello che adesso vedremo neanche lo conosceva a Samuele come appare dal versetto 17 che stiamo per leggere quando Samuele vide Saulo il Signore gli confermò ecco l'uomo di cui ti ho parlato costui reggerà il mio popolo Saulo si accosta a Samuele in mezzo alla porta e gli chiese indicami per favore la casa del veggente vedete lo chiama veggente il profeta no? attenzione veggente anche qui il termine veggente in ebraico è vedete Haroe sempre il verbo colui che vede la casa del veggente ok? attenzione il veggente perché il veggente no? il veggente è colui che che vede attenzione che proprio il termine Dio in greco Dio in greco si dice Theos ma Theos viene dal verbo Theaomai e Theaomai sapete che cosa vuol dire? significa guardare cioè la l'etimologia diciamo propria del termine greco Theos per dire Dio è colui che vede e il profeta chi è? è uno che siccome è un uomo di Dio è colui che vede un veggente e questo si fa capire anche oggi che i veri uomini di Dio sapete da che cosa sono caratterizzati? da un grande discernimento sono capaci di vedere di cogliere quello che Dio vuole questo è uno proprio dei tratti salienti dell'uomo dell'autentico uomo di Dio perché condivide appunto con colui che è la sua capacità di vedere evidentemente in forma imperfetta e limitata come per noi esseri umani ma è così quindi questo perché ci aiuti ancora un pochino a orientarci no? voglio il padre spirituale ecco stai attento che oltre che essere un sant'uomo verifica che abbia un buon discernimento sulla storia su quello che accade su di te ecco un buon discernimento sono io il vengente procedimi sull'altore oggi vi due mangerete con me ti concederò domani mattina e ti darò indicazione su tutto ciò che hai in mente riguardo poi le tue asine smarrite tre giorni fa non stare in pensiero perché sono state ritrovate a questo punto Saulo dice io sono benaminita della più piccola tribù di Israele la mia famiglia è la più piccola di tutte le famiglie perché Samuari gli dice guarda chi del resto appartiene a quel che c'è di prezioso di Israele se non a te e a tutta la casa di tuo padre perché mi parli in questo modo quindi vedete che Samuari non Saulo non si rende conto di quello che sta per accadere no? mangiano e saltiamo tutto il banchetto conviviale tra Samuari e Saul dice di buon mattino Samuari chiama Saul che era sulla terrazza dicendo alzati perché devo congedarti Samuari si alzò e ambe due lui e Samuari uscirono quando furono scesi alla pariferia della città Samuari disse a Saulo ordina al domestico che vada avanti tu fermati un momento perché ti possa comunicare la parola di Dio Samuari prese allora l'ampolla dell'olio vedete e l'unge e lo versò sulla testa poi lo baciò dicendo non ti ha forse unto il Signore come capo della sua eredità oggi quando potrai partire da me troverai due ognini verso la tomba di Rachele che ti diranno sono state ritrovate le asine che si è andata a cercare passi di là andrai oltre ti porterà ti domanderanno se stai bene giungerà a Gabba eccetera eccetera lo spirito del Signore attenzione quindi a Gabba contro i profeti il romperà anche su di te e ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un altro uomo quando questi segni che ti riguardano saranno accaduti farai quanto vorrai perché Dio sarà con te scenderai a Gagala precedendomi ed ecco io ti raggiungerò attenzione a quello che dice adesso per offrire olocausti e immolare sacrifici di comunione sette giorni aspetterai finché io verrò da te e ti indicherò quello che dovrai fare ricordiamo bene questo passaggio quindi allora vediamo un attimo che succede Saul viene scelto senza che neanche se ne fosse se lo minimamente immaginasse viene unto a seguito di quest'unzione scende su di lui lo spirito di Dio può profetizzare addirittura quindi viene trasformato addirittura in un altro uomo quindi ha ricevuto tanto dal Signore e riceve un primo mandato vai a Galgala io ti raggiungo perché dobbiamo offrire olocausti e immolare sacrifici di comunione cosa che deve fare Samuele non deve fare Saul sette giorni aspetterai finché io verrò da te ti indicherò quello che dovrai fare appena gli voltato le spalle per partire da Samuele Dio gli mutò il cuore e tutti questi segni si verificarono il giorno stesso arrivarono là a Gabba una schiera di profeti di fronte a loro lo spirito di Dio ruppe su di lui e si mise a fare il profeta in mezzo a loro quindi c'era una discesa dello spirito di Dio su Samuele in maniera abbastanza inequivocabile ruah Elohim scese su di lui ruach lo sanno tutti che significa ruach lo spirito di Dio va tennave navi in ebraico significa profeta da cui il verbo navag significa profetizzare betoham betoham in mezzo a suffisso della terza persona plurale a loro ora quanti lo avevano conosciuto prima vedendolo ad un tratto fare il profeta con i profeti si risponde ad un altro ma che è caduto al figlio di Kiss e dunque anche Saul tra i profeti e quando ebbe finito di terminare di profetare andò sull'altura c'è di nuovo un passaggio c'è lo zio di Saul che chiede raccontami quello che vi ha detto Samuele Saul risponde allo zio ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate ma non gli riferì il discorso del regno che gli aveva tenuto Samuele ora Samuele convoca il popolo davanti a Dio a Mispa e dice loro dice il Signore Dio di Israele io ho fatto salire Israele dall'Egitto e l'ho liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti i regni che vi affliggevano in tutta quanta la storia di Israele ci sarà sempre 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 questo memoriale perenne cioè non c'è cosa che viene fatta che non parta sempre dal ricordo e dalla memoria di quello che Dio ha operato per il suo popolo la liberazione dall'Egitto a ricordarci che come dice il Nuovo Testamento San Giovanni è sempre Dio che ci ha amato per prima è sempre Lui che comincia la sua storia con noi e anche per noi lo dico veramente con tutto il cuore ricordare tutto quello che il Signore ci ha donato tutto quello che ha fatto con noi è sempre la prima e più bella cosa che possiamo fare perché alimenta la nostra gratitudine se uno reagisce come dovrebbe reagire purtroppo sentite cosa dice Samuele ho fatto questo ma voi oggi avete ripudiato il vostro Dio il quale solo vi salva da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni e gli avete detto costituisci un re sopra di noi questo è il passaggio dei passaggi guardate che questo vale per noi cioè quante volte noi nella nostra esistenza dice si 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 Dio c'è però io i problemi devo trovare modo di risolvermi mali sì Dio sta nell'alto dei cieli ma non è che posso confidare devo comunque trovare delle soluzioni degli espedienti umani se facciamo così noi rinnoviamo in un certo senso analogico questo atteggiamento di Israele non lo dobbiamo fare mai sono io che vi salvo da tutti i vostri mandi da tutte le tribolazioni attenzione vedete come si chiama nostro signore Gesù Cristo si chiama Yeshua no e che significa il verbo ebraico Yeshua da cui deriva anche Messia no Messia Mashoah che cosa significa significa Salvatore significa eccolo il termine chi è che mi salva da tutti i vostri mali non da qualcuno da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni Michol che salva voi da tutti i vostri mali Rahatechem è male da tutti Michol in ebraico questa particelletta qui significa tutti è l'equivalente di Pas Pasapan in greco da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni le vostre tribolazioni sofferenze guardate sulla destra chi legge l'inglese il vocabolario no distress adversity affliction anguish tribulation trouble avversità afflizione angoscia tribolazione problemi chi ci salva da tutto questo chi è il Salvatore guardate qua eh guardate qua Messia no guardate la traslitterazione questa Moscia Savior Salvatore vedete qua il nome di Gesù Yeshua questo qui allora voi l'avete ripudiato gli avete detto costituisci un re sopra di noi quindi non ti basta il Salvatore celeste vuoi il Salvatore terrestre ora mettetevi davanti a Dio distinti per tribù e casati Samuel fece accostare ogni tribù di Israele e fu sorteggiata la tribù di Beniamino a cui apparteneva Saul fece accostare la tribù di Beniamino distinta per casati e fu sorteggiato il casato di Matri e fu sorteggiato Saul figlio di Chisse si misero a cercarlo ma non lo si trovò allora consultarono di nuovo il Signore è venuto qui quell'uomo disse il Signore eccolo nascosto in mezzo ai bagagli corsero a prenderlo di là ed egli si collocò in mezzo al popolo sopravvanzava dalla spalla in su tutto il popolo Samuele disse a tutto il popolo vedete dunque chi il Signore ha letto perché non c'è nessuno in tutto il popolo come lui tutto il popolo lo corruppe in un grido vive il re Samuele espose a tutto il popolo il diritto del regno e lo scrisse in un libro che deposito davanti al Signore poi Samuele congiutò tutto il popolo perché ognuno tornasse a casa sua anche Saul tornò a casa a gamba e lo seguirono uomini valorosi ai quali Dio aveva toccato il cuore attenzione ma degli uomini perversi dissero potrà forse salvarci costui vedete di nuovo il verbo della salvezza così lo disprezzarono e non vogliono portargli alcun uomo ora passiamo dopo questa prima ampia presentazione di questi due capitoli alla prima disobbedienza di Saul ricordiamo quello che gli aveva detto Samuele aspettami che io arriverò e poi offrirò i sacrifici aspettami dopo sette giorni andiamo a vedere Saul restava a Galgala gli aveva detto di stare siamo passati al capitolo 13 e tutto il popolo che era con lui si impaurì aspettò tuttavia per sette giorni l'appuntamento fissato da Samuele ma Samuele non arrivava a Galgala e il popolo cominciò a dispendersi lontano da lui allora che cosa gli viene in testa a Saul allora Saul diede quest'ordine portatemi l'olocausto i sacrifici di comunione e quindi offri lui l'olocausto un re che si mette a fare il sacerdote Samuele era sacerdote ricordate che era stato alla corte tra virgolette di Eli sacerdote nel tempio di Gerusalemme ma Saul no tribù di Beniamino non era tribù di Levi offre l'olocausto disobbedendo quindi no e usurpando ed ecco appena abbia finito di offrire l'olocausto giunse Samuele e Saul gli incontri per salutarlo per salutarlo Samuele gli disse ma che hai fatto Saul rispose beh vedendo che il popolo si disperdeva lontano da me tu non veniva all'appuntamento mentre i filistei si riunivano a Micmas ho detto ora scenderanno i filistei contro di me a Magdala mentre io non ho ancora pregato il Signore perciò mi sono fatto ardito e ho offerto l'olocausto mi sono fatto ardito e ho offerto l'olocausto allora risponde Samuele a Saul hai agito ad astolto non osservando il comando il comando del Signore il comando che il Signore tuo Dio ti aveva dato perché in questa occasione attenzione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno per sempre ora invece il tuo regno non durerà il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e gli comanderà di essere capo del suo popolo perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore amici cari solo su questo passaggio dovremmo starci a meditare moltissimo tempo se avessi fatto quello che Dio voleva oggi avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre non l'hai fatto il tuo regno non durerà io non so se posso raccontare in questa sede proprio una parentesi non so chi di voi conosce Suore Elena Aiello adesso credo che sia quantomeno beata se non già santa una sola vissuta nel secolo scorso ai tempi del fascismo Suore Elena Aiello la trovate online se andate a cercare online Suore Elena Aiello e scrivete vicino il nome di Mussolini troverete questa storia che vi sto per raccontare che è veramente la fotocopia di Saul prima che scoppiassi la seconda guerra mondiale sapete che cosa è successo a Suore Elena Aiello successe che il nostro signore gli apparve e gli dettò una lettera da consegnare a Mussolini al duce guardate che è molto analogo a questo fatto qui in questa lettera in sintesi si era scritto dice guarda tu sei una persona indegna perché certamente Mussolini era una persona come dire però io come dire ti ho messo in Italia quindi ogni autorità anche indirettamente anche come 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 permissione viene comunque da Dio perché se non ci fossi stato tu sarebbero arrivati i bolshevichi e io non potevo permettere che in Italia ci fossero i bolshevichi nella sede dove c'è il Papa ti ho protetto sempre benché non te lo fossi limitato e perché ti sia comportato male ora però stai attento tu c'hai intenzione di portare l'Italia nella seconda guerra mondiale che sarà una rovina non lo devi fare per nessun motivo lascia che l'Italia stia fuori da tutto questo non andare a presa a quel pazzo più pazzo di te che è Hitler c'era detto tra le righe se farai questo io consoliderò il tuo regno la stessa cosa che dice qui e vivrai felice e contento se non farai questo e condurrai l'Italia alla rovina farai una fine peggiore di Napoleone guardate che sconvolgente questa cosa e tra l'altro la cito adesso perché questa è la fotocopia di Saul che fine ha fatto Mussolini peggio di Salomone perché almeno scusate non di Salomone peggio di Napoleone perché Napoleone è morto in esilio certamente è morto nel disonore ma insomma è morto di morte naturale il famoso 5 maggio di Manzoni a Sant'Elena Mussolini è morto ammazzato e poi altro che umiliato veramente le scene barbare indegne che non si dovevano comunque fare qualunque cosa avesse fatto quest'uomo perché sono indegne di piazzare l'ho detto a Milano racconto queste cose perché noi dobbiamo capire che ci sono degli snodi della nostra esistenza io queste cose queste cose purtroppo le ho constatate dei momenti in cui cerchiamo di starci con la testa perché ci sono dei bibi della nostra esistenza dei bibi dove se imbrocchi la strada sbagliata ti perdi alcune grazie è così purtroppo faccio un esempio stupido quindi attenzione qui non era finito non era tutto finito ancora per Saul non era tutto tutto finito soltanto il tuo regno non durerà è già alle porte del tuo successore ma non c'era ancora un ripudio totale da parte del Signore non ancora non siamo ancora riguardi a questo però alcune grazie sono state perse dobbiamo fare attenzione figlioli e miei cari non avere un'idea sciocca e e buonista antoddio è buono antoddio qualcosa faccio mi perdono a destra e a sinistra io parlo in continuazione avvertendo contro questa cosa qui cioè una ragazzina facciamo un esempio proprio feria una ragazzina che perde la virginità perde delle grazie non è che per questo ha perso la virginità quindi la vita è finita è spacciata è dannata no ma ha perso delle grazie che avrebbe avuto perché quelle erano legate al conservare la virginità fino al matrimonio fino alla professione religiosa oppure la conservazione della castità perpetua perché non destinata né al matrimonio né alla consagrazione religiosa eccetera questo è un primo diciamo snodo fondamentale un primo messaggio fondamentale che ci viene dalla vicenda di Saulo andiamo però adesso a leggere il ben più drammatico capitolo quindicesimo che è questo ora Samuele disse a Saulo il signore ha inviato me per ungerti re sopra Israele suo popolo ora ascolta la voce del signore Shema Israele no il canto che ha introdotto questa atta Shema le col di bre Adonai letteralmente ora presto ascolta presto ascolto alla voce ascolta la voce ossia la parola del signore tabar in ebraico è parola no quindi di bresta è stato costrutto Adonai così dice il signore degli eserciti ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele come gli si oppose per la via quando usciva dall'Egitto vi ricordate quando Israele stava uscendo dall'Egitto che Amalek faceva la guerra contro Israele Mosè stava con le braccia aperte e quando teneva le braccia aperte Israele era più forte di Amalek e quando gli cadevano le braccia Amalek prevaleva e la maledizione che viene lanciata contro Amalek al termine di questa vicenda da parte dell'Altissimo adesso Amalek è ricomparso ai tempi di Saul ok e che cosa dice il signore ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele come gli si oppose per la via quando usciva dall'Egitto va dunque colpisci Amalek lo devi distruggere e vota allo sterminio quanto gli appartiene non risparmiarlo ma uccidi tutti tutti uomini donne bambini lattanti buoi pecore cammelli e asini un'ecatombe sterminio votare allo sterminio c'è un'espressione tipica ebraica per dire questo qui va lech e vota allo sterminio Amalek votare allo sterminio si dice haram è un verbo vedete che in inglese è to ban bannare lo devi proprio cancellare quando uno è bannato da qualche se uno è bannato da facebook è scomparso d'accordo se io banno qualcuno siamo scomparsi non c'è più lo devi sterminare saul convoca il popolo passa a rassegnare le truppe a Telaim erano 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giude bel esercito saul venne alla città di Amalek e teso un'imboscata nella valle disse inoltre saul e caniti andate via ritiratevi dagli amaliciti e prima che io dagli amaliciti sono gli amaliciti sono i serbi di Amalek no? quindi prima che vi distrugge insieme con loro perché avete usato benevolenza con tutti gli israeliti quando uscivano dall'Egitto i caniti quindi si ritirarono da Amalek saul colpì Amalek da Avila in direzione di Sur cioè che di fronte all'Egitto egli prese vivo Agag re di Amalek e sterminò figli di spada tutto il popolo attenzione però ma Saul e il popolo risparmiarono Agag il re non l'ha ammazzato e il meglio del bestiame minuto e grosso cioè gli animali grassi e gli agnelli tutto il meglio e non vollero sterminarlo invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito cosa gli aveva detto Samuele a Saul non deve rimanere zero assoluto devi distruggere sterminare votare allo sterminio tutto e Saul pensa di essere più intelligente dice ma tutto no adesso vedremo perché ha fatto questa operazione allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore mi pento mi pento di aver fatto regnare Saul questo mi pento di aver fatto regnare Saul che è proprio il verbo Naham che in inglese in inglese regretta regretta significa proprio pentirsi repenta anche no? la stessa cosa mi pento di aver fatto regnare Saul perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia parola chisham mi hara et debare lo hekim vajachar vajachar è un'altra cosa allora questo mi pento sapete che fa eco a cosa mi pento di aver creato l'uomo prima che il Signore manda il diluvio universale ora voi sapete che la Bibbia usa espressioni antropomorfiche no? attribuite a Dio non è che Dio si penta non è come noi dice che ho sbagliato e mi pento no nel mistero perché questo è una cosa che noi se ci mettiamo a pensarcela bene noi sappiamo che Dio sa tutto quindi non ci possono essere delle delle novità per lui no? però nel dispiegarsi della storia umana noi dobbiamo pensare in questo modo cioè Dio ti prende e ti dà alcune grazie perché tu di quelle grazie di per sé per quanto sta a lui ne faccia buon uso ti dice alcune cose perché tu le metti in pratica se tu questo non lo fai so guai so guai fino al punto che tu puoi decadere addirittura dall'elezione ricevuta da Dio stesso mi pento di aver fatto Samuele si adirò Samuele si è arrabbiato e alzò grida per tutta la notte al mattino presto bello bello carico si alzò per andare incontro a Saul ma fu annunziato a Samuele e Saul è andato a Carmel ed ecco si è fatto costruire un trofeo pure poi è tornato passando altrove ed è sceso a gagga la Samuele raggiunse a Saul e Saul gli disse benedetto tu sia dal Signore io ho eseguito gli ordini del Signore attenzione risponde Samuele ma che è questo belardi pecore che mi giunge all'orecchio e questi mugiri di armento che odo disse Saul li hanno condotti qui dagli amaleciti come il meglio del bestiame grosso e minuto che il popolo ha risparmiato per sacrificare del Signore tuo Dio il resto l'abbiamo guardato allo sterminio capite? Dio gli ha detto devi pulire tutto lui dice no 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 tutto no io risparmio il bestiamo grande e minuto attenzione non lo faccio per me ma perché lo offriamo in sacrificio al Signore quindi che bella idea che ci ha avuto risponde Samuel a Saul lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte Saul gli disse parla Samuel continua non sei tu capo delle tribù di Israele benché piccolo i tuoi stessi occhi il Signore non ti ha forse un tuore di Israele? il Signore ti aveva mandato per una spedizione aveva detto va vota allo sterminio quei peccatori ti amaleciti combattili finché non li avrai distrutti perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto male agli occhi del Signore e sentite che succede qui Saulo insistette con Samuel e dice ma io ho obbedito alla parola del Signore Shammatib col Adonai ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato ho condotto Agag re di Amalek e ho sterminato gli amaleciti il popolo poi ha preso dal bottino bestiale minuto e grosso primizie di ciò che ho guardato allo sterminio per sacrificare al Signore tutto io agaggala e Samuale che cosa esclama senti un po' il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore facciamo un bel quadretto e mettiamocelo in camera ecco obbedire attenzione obbedire al Signore è meglio del sacrificio essere docili è meglio del grasso degli arieti sì peccato di divinazione e la ribellione e colpa e terafim è l'ostinazione poiché hai rigettato la parola del Signore egli ti ha rigettato come re attenzione qui non è il tuo regno durerà di meno è la fine saldisse allora a Samuele attenzione scopriamo meglio gli altarini ho peccato per avere trasgredito il comando del Signore e i tuoi ordini mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce attenzione perché ha fatto questo per il giudizio degli altri per timore di contristare gli uomini è andato contro l'ordine di Dio ma vi fa pensare a qualcosa quante situazioni ci possono capitare di questo genere ma ora perdona il mio peccato e ritorna con me perché possa prostarmi al Signore ma Samuele rispose a Saulo non posso ritornare con te perché tu stesso hai rigettato la parola del Signore e il Signore ti ha rigettato perché tu non sia più re sopra Israele Samuele si voltò per andarsene ma Saulo gli afferrò un lembo del mantello che si strappò e Samuele gli disse oggi il Signore ha strappato da te il Regno di Israele e l'ha dato un altro migliore di te tanta roba migliore di te Davide d'altra parte colui che la gloria di Israele non mentisce né può pentirsi perché egli non è un uomo per pentirsi vedete la correzione diciamo così esistenziale teologica Saulo disse ho peccato ma onorami davanti gli anziani del mio popolo e davanti Israele ritorna con me perché mi possa prostrare al Signore tuo Dio e Samuele accetta ritorna con Saulo e questi si prostano al Signore Poi poi Samuele disse conducetemi Agag re di Amalek Agag avanzò in catena verso di lui e disse certo è passata l'amarezza della morte Samuele l'apostrofò come la tua spada privato di figli le donne così tra le donne sarà privata di figli tua madre e Samuele abbatté Agag davanti al Signore a Galgala Samuele andò quindi a Rama e Saul salì a casa sua a Gabba di Saul Samuele non rivide più Saul fino al giorno della sua morte ma Samuele piangeva per Saul perché il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele e vedete che poi la Bibbia di Gerusalemme nella versione 6 intitola tramonto di Saul e ascesa di Davide da questo momento Saul è finito e non ci sarà avverso di riprendersi allora capite concludiamo ci dobbiamo fermare qui perché siamo già avanti con con il tempo non c'è tempo evidentemente adesso di andare a ce lo prendiamo per la prossima volta senza avere fretta però l'insegnamento di oggi è severo è drammatico ma è importantissimo la vicenda di quest'uomo prima si mette a fare ciò che non doveva fare e fare cose prima del tempo e non aspetta e quindi si gioca la prima la prima carta poi ne fa una ancora più grossa trasgredisce un ordine di Dio Dio gli aveva detto di fare questo e lo fa per timore del popolo rigettato come re e attenzione lo fa attenzione perché confessa che lo fa per timore del popolo quando viene messa alle strette questo ci ci faccia anche riflettere quando noi esuliamo no bypassiamo la volontà di Dio ci mettiamo ci mettiamo sempre dentro la testa delle ottime e delle buonissime considerazioni per farlo ci autoconvinciamo queste autoconvinzioni tra l'altro apparenti spesso nascondano le intenzioni e le cause profonde per cui stiamo facendo qualcosa che è quello che ci rende ancora più responsabili davanti a Dio ricordiamo sempre le parole di Samuele il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore ecco obbedire è meglio del sacrificio essere docili è meglio del grasso degli arieti obbedire essere docili a Dio peccato di divinazione è la ribellione e Terafim sapete che Terafim però in ebraico significa idolatria l'ostinazione vedete che il grande San Gironamo che conosceva bene l'ebraico perché vedete la cei traduce con Terafim non tocca il termine il greco traslittera Terafim anche la cei 74 c'ha Terafim ma la vulgata c'ha scelus idolatrie e Terafim se uno guarda l'etimo ebraico Terafim ma il plurale significa idoli da cui idolatria l'ostinazione è idolatria ostinazione è anche presunzione ostinazione vuol dire che tu ti impunti e fai quello che vuoi anzi quello che è stato ordinato dall'altissimo quindi la fatti due grossi quanto una casa anzi tre la disobbedienza a Dio non si fa nel signore dice ma io questa cosa non la faccio ma la faccio quest'altra non tu devi fare quello che Dio vuole da te e devi farlo bene disobbedienza ribellione idolatria di se stesso e del proprio pensiero ostinazione Saul ha chiuso quindi prendiamo atto perché sapete che gli scrittori ecclesiastici poi hanno molto molto scritto delle cose molto molto profonde ci sono stati io ho fatto anche un corso di orcizi spirituali molto molto bello dove si è molto parlato di Saul e del saulismo quindi è una vicenda edificante lasciamoci edificare portiamoci a casa questa edificazione e che il signore ci aiuti e ci preservi da questi comportamenti che sono fuorieri soltanto di una montagna di guai detto questo amici ci aggiorniamo la prossima volta e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga grazie